Nove consiglieri di maggioranza e opposizione perché di fronte a certe problematiche non ci sono steccati politici che tengano. A Salerno scatta la mobilitazione per provare a dare delle risposte alle famiglie in difficoltà, a cominciare da quelle con bambini autistici. Sulla scrivania del sindaco Enzo Napoli è arrivata la proposta di aprire i parchi della città con orari definiti e ingressi programmati proprio ai soggetti affetti d'autismo per alleviare le sofferenze in questo periodo di chiusura totale a causa del Covid-19. È un vero e proprio grido d'aiuto che le famiglie che hanno dei propri congiunti con questa sindrome così grave, così invalidante, fanno per il nostro tramite, per il tramite dei consiglieri comunali che hanno chiesto al sindaco un intervento appropriato per evitare quella che sta diventando addirittura una regressione. oltre ai disagi di gestire questi ragazzi, questi giovani, c'è anche il problema della regressione rispetto a tanti sacrifici fatti negli anni con terapie, cure. E quindi l'apertura per loro, solo per loro, in certi orari della giornata, per appuntamento, per evitare che non siano in tanti in un parco, come hanno fatto peraltro alcuni comuni, tra cui Aversa, ad esempio in Campania, questo potrebbe consentire di dare loro un minimo di ricreazione, di distensione, che non possono avere nei 200 metri sotto casa. Noi speriamo davvero che il sindaco possa operare in questo senso, aprendo i parchi solo per loro. Grazie a tutti.